Buongiorno a tutti, in questa sede andremo ad affrontare un argomento di forte attualità e che soprattutto tocca nel vivo ciascuno di noi contribuenti, ossia la possibilità di avere accesso al cosiddetto contributo a fondo perduto, previsto da apposito decreto di rilancio datato 19 maggio 2020, nello specifico il numero 34. Ma in cosa consiste il contributo a fondo perduto? Sostanzialmente consiste in una proposta di potenziamento e di riorganizzazione di tutte quelle imprese e singoli contribuenti che versino in una situazione di difficoltà economica, avendo subito un brusco calo di fatturato dovuto proprio all'emergenza sanitaria che ciascuno si è trovato a dover fronteggiare e che ha messo un po' ciascun contribuente spalle al muro, dal punto di vista economico e non solo. Innanzitutto questo piano di rilancio consiste dunque in un'azione concreta da parte statale e nell'erogazione di una data somma di danaro in favore del soggetto che, rispondendo positivamente a taluni requisiti che esamineremo a breve, non deve essere per forza coperta dall'obbligo di restituzione, oltre a non andare a concorrere con la base imponibile di imposta. Dunque è un beneficio a cui i soggetti possono accedere qualora rispondano a determinati requisiti, potendo così andare a beneficiare di un potenziamento dal punto di vista economico e andare così a fronteggiare questo periodo difficoltoso. Innanzitutto quali sono però i requisiti imprescindibili per poter inoltrare la richiesta all'agenzia delle entrate? Innanzitutto il ricavato e fatturato del periodo di imposta anteriore rispetto a quello del decreto, ossia del 2019, non deve essere superiore a 5 milioni di Euro. O ancora, il divario tra aprile 2020 e aprile 2019 deve sancire un netto calo del fatturato del soggetto richiedente, pari ad almeno due terzi della riduzione tra un periodo di imposta e l'altro. O ancora possono avere la possibilità di richiedere il beneficio coi soggetti che abbiano la residenza fiscale o la sede operativa presso il comune direttamente colpito dall'emergenza o ancora coloro che abbiano iniziato un'attività in un periodo di netta e comprovata precarietà oltre che instabilità, dunque dal 31 dicembre 2018 in poi. Una volta che uno dei soggetti vada a rispondere positivamente ad uno dei suddetti requisiti, potrà andare ad inoltrare apposita domanda all'agenzia delle entrate. Questa deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e soprattutto l'istanza va presentata in un termine perentorio di almeno 60 giorni dall'avvio della procedura, pena la decadenza dalla possibilità di essere ammessi al beneficio suddetto. Ancora, l'agenzia delle entrate una volta comprovata la documentazione e la corrispondenza dei requisiti, disporrà appunto l'erogazione della somma di danaro in favore del beneficiario, andando a derogare la somma direttamente sul conto corrente di quest'ultimo e chiaramente in maniera commisurata al beneficio. Quindi dovrà valutare, secondo appositi criteri, la diminuzione del fatturato andando poi così a commisurare la somma dovuta per potergli garantire ripresa e riorganizzazione.